l'altra parte di Gigino eh sì sei una forza sei una forza bene allora se volete posso procedere facciamo qualche altra domanda bene oh è finito qua facciamo la foto ragazzi che di servizio pronti veniamo qua in coppia guardatevi che di servizio che vuoi siamo quasi addirittura d'arrivo eh ready pronto bene ok 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 Grazie a tutti. Ci siamo? Io sarei pronto per fare un'altra domanda al pubblico e farvi vincere quest'altro cadeau. Quindi? Una foto qua, pronta per il 23? Bene. Aspetta un attimo. Vai il 23, che è pronto qua. Andate là. Bene. Oggi gli sponsor ci hanno dato più di un attrezzo, quindi possiamo andare avanti per omaggiarvi. Certo, già patta la foto qua. Però sempre prevo una risposta esatta da parte vostra. Andate solo a rassettare. Alza il drink. Ok. 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 Ci siamo? Ci siamo? Servizio, un vassoio di là, grazie. Ecco. Ok. Ok. Grazie. Grazie per la prossima gara. Buona serata.